No, 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 ma che vi hanno fatto, scusate? Solo la doccia, maresciallo. Signorina! Dite! Fate venire il vostro fianzato. Giosuè! Chi è? Vi vuole capurro. E che vuole da me? Eh, datevi quella bomboletta che vi portate sempre appresso. Ah, l'esaglorofero... Ah, mi interessa, come si chiama, quella che dà forza. Datevela. Ah, quante le devo prendere? Eh, dove siete diretto? In Africa. Eh, non basta neanche la cisterna. E basta arrivare al porto? Ah, fino al porto due inarrazioni profonde. Come si fa? Mettetelo davanti al naso. Azionate la valvola e ispirate. Don Filippo, se devo venire pure io al porto con voi, è meglio che mi fate pigliare due boccate anche a me. Tieni. Andiamo. Ma che è successo? Gesù, vedete che è sbagliato? Gli ho dato la bombola del cloroformio. V estaba fatta. No, non lo so. Vabbè,